mi sembra evidente che l'analisi dell'amore in genere e dell'amicizia in specie e nella loro concreta vitalità sollevi quasi inevitabilmente la questione della gelosia un fenomeno strettissimamente connesso difficile contestare il fatto che la questione sia nella pratica la prima per importanza eppure mi pare che la maggior parte dei pensatori ne riconosca sufficientemente l'importanza teorica la letteratura filosofica relega nel ghetto il concetto di gelosia e raramente si degna di gettargli uno sguardo ecco perché mi sembra indispensabile approfondirlo sulla base di quanto ho scritto alla fine della lettera precedente ritengo che la spiegazione del concetto di gelosia serve anche a spiegare il concetto di amicizia e di amore e dunque che cos'è la gelosia? la gelosia nell'uso terminologico corrente dell'intelligenza è un vizio o perlomeno un dubbio difetto morale qualcosa di vergognoso e degno di derisione l'intelligenza vede di solito alla base della gelosia la superbia la vanagloria, l'egoismo, la diffidenza, la sospettosità la prensione esagerata insomma ogni sorta di deficienza e nessuna qualità positiva morale questa concezione della gelosia si radicò particolarmente nel secolo diciottesimo il secolo dell'intelligenza rivoluzionaria per eccellenza e Parigi, centro dell'intolleranza illuministico-razionalistica si distinse nel condannare la gelosia l'orgoglio e la vanagloria rendono gelose tante persone quante l'amore scrisse Boastet l'amore dei gelosi è simile all'odio attesta Molière la gelosia deriva più dalla vanagloria che dall'amore consta da Madame de Steyl nella gelosia spesso c'è più egoismo che amore nota la Rochefoucauld la gelosia volgare è diffidenza verso qualunque oggetto la gelosia raffinata è diffidenza verso se stessi giudica un tale i più gelosi di tutti gli amanti sono gli amanti della gloria osserva Troulet il geloso è un bambino che ha paura dei mostri nati nelle tenebre della sua immaginazione pensa Boastet il geloso trascorre la vita nel cercare di scoprire un segreto che poi rovinerà la sua pace nota Oxenstirna Schleiermacher o Grillparzer esprimono la stessa idea con un gioco di parole la gelosia cerca con zelo ciò che crea dolore dei mali della mente la gelosia è quello che viene alimentato dal menor numero di cose è curato dal numero più esiguo sentenza Noël la gelosia ha gli occhi del topo disse Bellamy perciò amore e gelosia sono incompatibili quando l'egoismo regna sulla gelosia l'amore ha perduto il suo potere afferma Lengret la gelosia spegne l'amore come la cenere spegne il fuoco scrive la regina di Navarra le forti passioni sono superiori alla gelosia leggiamo in La Rochefoucauld questa concezione slavata e piatta della gelosia ha trovato la sua forma definitiva e psicologicamente motivata nella definizione icastica di Spinoza la gelosia è un amore pieno di odio verso l'oggetto amato ed invidia verso un altro che gode dell'amore del primo Spinoza adopera acutamente l'immagine dei due liquidi che si mescolano e intorbidiscono la fluctuatio così l'amore e l'odio mescolandosi formano nell'anima uno stato per cui la coscienza si intorbidisce e diventa opaca Spinoza perviene alla sua classica definizione con le seguenti considerazioni l'amore tende alla reciprocità anzi anzi alla reciprocità più perfetta ogni riduzione perdita da noi provata in questo rapporto è sentita come autoriduzione e perciò provoca il massimo dolore l'amore reciproco più perfetto è onnivoro noi vogliamo possederlo totalmente è la nostra felicità suprema che non vogliamo spartire con nessuno e dare a nessuno se l'essere amato ama qualcuno più di noi ci sentiamo infinitamente infelizi la causa della nostra infelicità è oggetto del nostro odio quindi odieremo l'amato che ci priva della sua rispondenza e invidieremo colui che ne gode così nasce l'amore che allo stesso tempo odia e invidia cioè la gelosia questa passione è particolarmente forte se un altro si è impossessato della nostra felicità e quanto più grande era la nostra felicità tanto maggiore sarà la fiamma della gelosia la quale annienterà tutta la nostra anima se non ci sarà un'altra forza che la domi l'odio verso l'oggetto è forte nella misura del precedente amore ecco di seguito i teoremi se qualcuno immagina che l'oggetto amato sia stretto da un vincolo d'amicizia uguale o più stretto di quello di cui prima godeva solo lui inviderà quell'altro chi ricorda un oggetto di cui si è dilettato vuole riaverlo nelle stesse circostanze in cui allora se n'è dilettato la brama che nasce da tristezza o da litizia e da odio o da amore è tanto maggiore quanto maggiore è l'affetto se qualcuno prende in odio l'oggetto amato fino al punto da distruggere l'amore lo perseguiterà con un maggior odio posto a un'ugual causa di quanto nutrirebbe se non l'avesse mai amato e di tanto maggiore quanto prima maggiore era stato l'amore secondo le idee correnti la gelosia è un'escrescenza dannosa e deforme dell'amore le sue cause sono estranee all'essenza dell'amore e perciò essa si reputa distinta dall'amore Spinoza invece esamina lo stretto nesso che lega l'amore alla gelosia per lui la gelosia non è un socio casuale dell'amore ma un'ombra fedele che compare sullo schermo della vita dell'anima ogni volta che l'amore è illuminato dal tradimento dell'amato più esattamente sempre secondo Spinoza la gelosia è l'equivalente indispensabile dell'amore che nasce quando il rapporto volge al peggio l'amore non scompare ma si trasforma in gelosia anche nell'analisi di Spinoza è pensabile un amore senza gelosia quando sussista una piena reciprocità e così la gelosia benché psicologicamente necessaria in determinate circostanze è valutata negativamente come animi fluctuazio offuscamento della coscienza passione sfrenata per Spinoza la gelosia in amore non è amore e quindi è condannabile perché non amore anche se l'amore è legata da un nesso casuale anche Spinoza quindi non si libera dalla concezione corrente della gelosia come mai? se vogliamo spiegarselo dobbiamo ricordare il carattere inerte e reificato di tutta la filosofia di Spinoza egli non ammette la categoria della persona e quindi non può distinguere tra l'amore di una persona e la brama di una cosa confonde l'amore e la brama o meglio sostituisce questa a quello in lui leggiamo di un impersonale res amata mai di una persona amata solo alla persona e non alla cosa si può applicare l'epiteto di amata è vero che oggi in società si parla di amare i sigari amare le carte eccetera ma ogni persona normale comprende che si tratta di una deformazione o eclissi della coscienza oppure di una violenza contro la lingua i sigari, le carte o una certa marmellata si possono soltanto desiderare, bramare non amare ora il correlativo del desiderio è l'odio con invidia e proprio per questo in Spinoza il momento deprecabile dell'odio con invidia riceve tanto rilievo nella concezione originaria dell'amore l'amore non è il desiderio l'odio e l'invidia non sono la gelosia benché questo stia il concetto di gelosia di Spinoza come l'amore vero sta alla brama per comprendere la vera natura della gelosia bisogna connetterla ancora più strettamente all'amore introdurla nel cuore stesso dell'amore sottolineare il carattere personale dell'amore e così spiegare come la gelosia sia lo stesso amore nel suo essere altro dobbiamo scoprire come la gelosia sia la condizione necessaria e l'aspetto inscindibile dell'amore la condizione e il suo aspetto in quanto volto al dolore in modo che chi desidera eliminare la gelosia elimina l'amore allo stesso modo nella brama esiste sempre l'odio con l'invidia a questo scopo bisogna anzitutto liberare la gelosia dalla condanna che le grava sul capo la gelosia è stata tanto spesso confusa con certe sue manifestazioni indebite che il vocabolo stesso e i suoi derivati sono divenuti termini di condanna tuttavia vedere l'essenza della gelosia nella sospettosità nell'egoismo meschino nella diffidenza nell'astio nella cattiveria nell'odio con invidia è altrettanto falso che vedere l'essenza della giustizia legale nella privazione della libertà nei favoreggiamenti nelle ingiustizie vedere l'essenza della giustizia nella durezza e crudeltà di cuore la sospettosità l'odio con invidia eccetera sono manifestazioni cattive indebite egoistiche della gelosia nate dalla confusione di amore e brama eppure esistono due serie di dati storici i quali ci suggeriscono che la gelosia è positiva e debita anzitutto il popolo ebreo eletto che ebbe la più pura coscienza di dio e più di ogni altro popolo comprese l'amore di dio ribadisce con insistenza senza interruzione senza eccitazioni la gelosia di dio tutta la bibbia è satura e permeata dalla gelosia di dio e non è possibile non tenerne conto in secondo luogo il geniale popolo ellenico il popolo della più pura umanità che meglio di ogni altro conobbe e comprese l'amore umano in tutti i suoi aspetti ritiene la gelosia un tratto fondamentale sommamente caratteristico e inscindibile dell'amore Nietzsche negli abbocchi di meditazione noi filologi si propone fra tre punti scelti dall'antichità di elaborare la nobilitazione della gelosia i greci sono il popolo più geloso anche di questo non possiamo non tener conto se il genio più illustre e la fede più pura ci mostrano la gelosia come forza positiva e necessaria nell'essere dell'amore sia umano che divino vuol dire che è proprio così insomma che cos'è la gelosia è uno dei momenti dell'amore la base dell'amore lo sfondo dell'amore la tenebra originaria nella quale risplende il raggio dell'amore l'amore è una scelta libera tra molte persone molti io sceglie con un atto di autonoma decisione interiore una persona e con lei allaccia un rapporto unico e di intimità spirituale l'io vuole vedere in questa persona comune una persona straordinaria in questa persona grigia una persona briosa in questa persona feriale una persona festiva essa sta nella folla ma l'io la chiama e la introduce nella dimora ornata del proprio cuore e disegna l'effigie su uno sfondo d'oro zecchino e ha ragione perché questa effigie non è una caricatura come la disegnano gli uomini il più delle volte non è nemmeno un ritratto dipinto da un sapiente essa è l'immagine dell'immagine di dio un'icona infrangendo la legge dell'identità l'io con un atto metafisico di autodeterminazione non un atto razionalistico con tutto il proprio essere decide di vedere nella persona scelta tra molte una persona eccezionale eminente in una parola la persona scelta diventa per lui tu ripeto l'amicizia è esclusiva com'è esclusivo l'amore coniugale molti è segno di imperfezione dell'oggetto dell'amore segno dell'incompiutezza del tu in quanto tu la poligamia e la polifidia sono false nell'idea stessa e inevitabilmente devono trasformarsi o in monogamia e in monofilia oppure dissolversi e perire nella passione carnale e nell'interesse dice aristotele non si può essere amico di molti se si intende l'amicizia perfetta come non si può essere nel medesimo tempo innamorati di molti l'amicizia perfetta può rivolgersi soltanto a una persona anche se si afferma che esistono molti tu amati nell'amore ogni rapporto con ciascuno è come se fosse l'unico ogni amore è per sua natura selettivo di lezio e quindi l'amato è sempre l'eletto un precelto un unico proprio in ciò sarà natura personale dell'amore senza la quale si avrebbe una brama reificata indifferente alla sostituzione di una cosa bramata con un'altra pari ad essa l'ecigenza dell'identità numerica della persona amata anche se manca l'identità quantitativa quando una persona cambia caratterizza l'amore e insieme l'infrazione da parte dell'amore della legge dell'identità invece è caratteristico della brama esigere un'identità generica qualitativa della cosa bramata essere indifferente all'identità numerica anche senza capirla e quindi osservare la legge dell'identità condizione dell'amore anche nelle sue manifestazioni più imperfette è la coscienza dell'unicità anzi perfino per l'illusione d'amore è necessaria se non l'unicità almeno l'illusione dell'unicità dell'irrepetibilità dell'eccezionalità anche l'amante può sbagliare come sbaglia ogni primo amore nel ritenersi unico al mondo e nella storia come ognuno dei seguaci e commentatori legittimi di Kant si ritiene unico come infine si afferma unico l'unico Stirner se manca questa condizione rimane possibile perfino l'illusione d'amore e nei rapporti ci sarà soltanto interesse fango morte il pensiero stesso di poter sostituire una persona con un'altra si basa sull'accettazione della homo iusia ed è quindi peccaminoso e porta alla morte attraverso un incomprensibile atto di elezione una persona diventa unica è chiamata alla sublime regale dignità del tu quando essa ha consentito a questa scelta ha detto sì e si è posta sul capo la corona della grandezza che cosa vuole ancora l'io una cosa sola il suo amore l'io afferma il proprio atto d'amore come eterno per valore e quindi decide che rimanga che non venga meno questa affermazione interiore si esprime come zelo e gelosia di incarnare nel tempo il proprio atto eterno di elezione dell'amato tu l'io desidera che il tu non gli sia d'ostacolo nell'amore cioè che nei rapporti con lui sia veramente tu che il tu si comporti come unico che non scenda dal piedistallo dell'appartato del singolare dell'eletto non importa se nella folla o per la folla l'eletto tu è la persona più comune per l'io che lo ha scelto deve essere tu e nient'altro che tu altrimenti è impossibile l'amore altrimenti non può incarnarsi nel tempo l'atto stesso della scelta altrimenti il tempo dell'amore non sarà immagine mobile dell'eternità dell'elezione nei rapporti con l'io il tu deve comportarsi da tu e non come uno dei tanti deve portare la corona regale e non la berretta da notte la coscienza della necessità di questo tu affinché sia possibile l'amore comporta il desiderio di attuare questa elezione e quindi di rinsaldarla e conservarla tutto questo insieme è la gelosia ma se il tu non lo vuole se continua a violare la dignità e l'alta posizione che liberamente ha assunto se il tu dopo aver detto sì quando gli hanno proposto una nuova essenza per leggerezza o per testardaggine o per insufficienza di sincerità nell'assumere la propria alta funzione dimostra con la sua condotta che l'io per lui non è io se desidera essere tu ma non vuole riconoscere che l'io è l'io in questo caso l'io non può e non deve non reagire e questa reazione è la gelosia verso il proprio amore cioè la cura affinché resti immacolato genuino e infine affinché si conservi questa esigenza nei riguardi del tu il nome della possibilità stessa dell'amore comporta il desiderio di realizzare questa elezione di rinsaldarla e conservarla e tutto questo insieme è la gelosia una delle due o il tu deve riconoscere questa reazione questa lotta per l'amore questa gelosia e cambiarsi oppure deve rinunciare alla propria dignità riconoscersi soltanto una persona comune scendere dal trono nella folla grigia passare dalla festa alla condizione quotidiana è impossibile per l'io amare e non essere geloso quando il tu cessa in effetti di essere tu è impossibile che non penti di farlo diventare di nuovo tu se non si riconosce all'io il diritto della gelosia non gli rimane che di rovesciare il tu dal trono l'io deve dimenticare il tu cessare di amarlo perché solo così è possibile sollevare il tu dall'esigenza dell'amore reciproco però il tu si è innestato nell'io ed è divenuto una parte di lui disarmarlo significa privarsi di una parte di se stesso dimenticare significa amputare una parte della propria carne viva così avviene quando per rispetto della libertà altrui bisogna strappare dal proprio petto l'amore insieme al cuore stesso l'amore è senza limiti di spazio e tempo è universale ma questa universalità invece di escludere presuppone addirittura la specificità l'isolamento la solidarietà perché l'amore ha per radice il santuario dell'anima è possibile soltanto in quanto questo santuario è vivo proteggere la perla dell'anima significa proteggere l'amore stesso trascurare il proprio santuario significa trascurare l'amore l'amore oltre che essere universale è limitato oltre che sconfinato è circoscritto oggi non si accetta e si considera duro e crudele quanto il signore disse a questo riguardo eppure nel Vangelo madre di tutti i libri queste parole seguono immediatamente a quelle sul dovere di non giudicare il prossimo e alla parabola del fuscello e della trave nell'occhio ipocrita togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello e come lama contro lama ecco il pensiero antitetico non date ciò che è santo ai cani né gettate le vostre perle innanzi ai porci perché non le calpestino con le zampe e si rivoltino a dilanearvi quasi spiegando questo detto San Serafino di Sarof si insegna non dobbiamo svelare senza necessità ciò che c'è di meglio nel cuore non rivelare a tutti i segreti del tuo cuore così da una parte non giudicare dall'altra ritieni cani e porci coloro ai quali non si addice aprire i segreti del cuore svelali soltanto ad alcuni eletti separati dal greggio suino è un'antinomia quasi equivalente all'antinomia di amore gelosia per una spiegazione paradigmatica bensì soltanto approssimativa di quanto ho detto cito ancora un frammento del diario che ho menzionato è la trascrizione di una conversazione vera o immaginaria con l'amico ti comporti così e così ti nascondi hai dei segreti desideri una piena autonomia ti pesa la confessione sia tua che dell'amico è vero ma non sai che mi comporto così sempre e dappertutto anche se questo non è affatto vero e tu non sei con tutti e dappertutto così anche se così fosse questa non è una risposta per me l'amicizia è tale proprio perché qualcosa si trasmette dall'altro a me e da me all'altro i rapporti sono rapporti perché mettono il rapporto l'uno con l'altro estraggono ciascuno dalla chiusura dell'egoismo e dalla strettezza di cuore allargano l'essere della persona come disse Spinoza mi devi capire che se la mia natura il mio essere sono così ebbene ogni essere così egoista è angusto ma l'amicizia è fatta proprio per aprire la strada a una realtà nuova affinché non siamo freddi eunuchi di cuore essere eunuchi di cuore è il vizio più malvagio la cosa più terribile che possa capitare ad un uomo ma se io sono eunuco sempre nell'amore la nostra personalità cessa di rimanere come sempre come dappertutto come con tutti la vecchiezza e la senilità dell'anima scompaiono e l'anima si rinnova e ringiovanisce ma non ci sono forse rapporti tra noi viviamo pure in qualche modo proprio qui sta il punto in qualche modo se non ci sono i rapporti di cui parlavo se non mettono il rapporto e non connettono nessuno i rapporti in essi non esistono affatto e le persone non sono amiche non sono una nell'altra ma ciascuna rimane in se stessa e per se stessa nell'egoismo se tu continui ad essere con me come con tutti e con me ti comporti come sempre e dappertutto ciò dimostra meglio ad ogni altra cosa che tu non conosci né amicizia né rapporti né essi cerca di capirmi non voglio il tuo amore o disamore la tua amicizia o inimicizia ma soltanto una tua decisione per sapere se vale la pena sudare e sprecare le energie sul campo dell'amicizia almeno con la speranza di una messa lontana oppure se debbo rinunciare in partenza all'idea di un futuro migliore abbandonare un campo sterile e pietroso e occuparmi di cose mie ma tu rimani sordo il bene e il male registrando indifferente tu ti chiudi nel mutismo sarà ancora per molto un cuore ferito dall'amico nulla lo guarisce se non il tempo e la morte ma il tempo ne cancella le ferite amputando anche la parte malata del cuore uccide parzialmente e la morte annenta tutto l'uomo perciò per l'uomo che vive le ferite inferte dall'amicizia sono inguaribili e dolorose ed egli le porterà con sé fino davanti al giudice eterno osserva la parabola evangelica dei chiamati e degli eletti quanta amarezza segreta e infinita quanto dolore del cuore ferito nel suo amore gli amati i chiamati sono coloro che dio stesso si era gelosamente scelti per i quali aveva fatto quanto non aveva per nessun altro popolo e il risultato essi non vogliono essere eletti non vogliono la propria salvezza anzi non vogliono essere nemmeno delicati rispondere alla chiamata dell'amore che conferisce loro il suo massimo dono e li fa a suoi amici e allora esci in fretta per le piazze per i chiassuoli della città e conduci qui i poveri gli storpi i ciechi e gli zoppi e visto che c'era ancora posto esci per i viottoli e le siepi e incitali a entrare affinché la mia casa si riempia il banchetto dell'amore preparato per le persone care al cuore si riempie alla fine di passanti qualunque far di tutto aver fatto tutto nell'amicizia per superare il muro che divide gli uomini non risparmiare le forze battersi fino a grondare sudore fino a spargere il sangue fino alla morte per comunicare porre la propria vita per gli amici perché la prima cosa dalla quale si devono liberare gli amici è l'insincerità la freddezza la chiusura in se stessi ma c'è esiste un limite che non si può superare un muro nel quale non si può aprire una brezza né con la fronte né con l'ariete quando lo hai raggiunto va via con il dolore nel cuore bisogna strappare da sé il sentimento a costo di strappare un pezzo di carne viva bisogna liberarsi da ciò che è impossibile ed è impossibile mostrare a un altro che l'impossibile cioè l'amore è possibile lo stesso salvatore del mondo quando raggiunse questo limite e vide che era impossibile con l'amore aprire una brezza nel muro del popolo eletto abbandonò l'impresa Terusalemme Terusalemme che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono inviati quante volte ho voluto radunare i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le sue ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa vi sarà lasciata deserta l'analisi condotta sul concetto di gelosia ci ha rivelato il nesso profondissimo che questa ha con il superamento della legge dell'identità fondamento primo del razziocinio si capisce perciò perché la gelosia sattiri lo sfavore del razziocinio perfino nelle sue manifestazioni più pure e perché il senso comune e la derisione che ne è la figlia naturale facciano volentieri le spese della gelosia anche in astratto in linea di principio sia l'amore che la gelosia la quale è un altro amore si battono con il razziocinio facendo brezza nella sua parte fondamentale la legge dell'identità in questo senso la gelosia è profondamente ingiusta se la sua irragionevolezza attira sulla gelosia la condanna intellettuale di assurdità la sua ingiustizia le procura la dirata qualifica morale di fenomeno immorale anche questo spiega perché si è offuscato il concetto di gelosia i dati dell'etimologia confermano le conclusioni dell'analisi metafisica del concetto di gelosia il russo revnost questo concetto nella sua intenzionalità fondamentale ha il carattere di potenza di forza di tensione ma non come la paura l'odio o l'invidia revniv geloso e i derivati renovat essere gelosri revnost gelosia vengono da alcuni associati ai latini rivalis rivinus donde il francese rival rivalisè rivalitè ma anche se è così resta oscuro il significato radicale del termine qui salto le varie etimologie riportate nel testo avere gelosia e avere zelo in radice significa soltanto la presenza di una forza di una potenza di un'intensità tutto ciò è l'opposto della fiacchezza impotenza debolezza ecco perché spesso il termine revnovat si adopera nel senso di tendere a qualcosa con forza con energia essere energico in qualcosa l'etimologia e l'uso della parola revnost gelosia e dei suoi derivati confermano con certezza la precedente analisi metafisica del concetto di gelosia così la gelosia è liberata definitivamente dalla condanna che la sovrasta e riconosciuta espressione indispensabile o meglio aspetto indispensabile di un amore forte questo ci permette di capire perché la parola di Dio così spesso e ostinatamente attribuisca a Dio la gelosia se fosse una qualità deprecabile in sé risulterebbe assolutamente incomprensibile ritrovarla nella vita divina perché nessun antropomorfismo ha mai attribuito a Dio il peccato o la passione malvagia o la menzogna se gli si attribuisce la gelosia qualunque sia il modo di interpretarla possiamo affermare senz'altro che è qualcosa di santo e che quindi la gelosia umana non è di per sé qualcosa di indebito e impuro quando la gelosia è attribuita a Dio non abbiamo dunque un antropomorfismo ma una precisa significazione dell'essenza della cosa perché la gelosia è un concetto ontologico e non psicologico o etico la gelosia è un momento indispensabile dell'amore ma in più è un aspetto indispensabile di ogni bene che sussista nell'uomo secondo l'ampia spiegazione che ne dà Santisacco di Siro essa è in genere la forza che attua ai buoni desideri che ha buoni desideri non può essere impedito di soddisfarli ciò avviene per le ragioni che seguono a ogni pensiero di buon desiderio all'inizio del suo moto segue una certa gelosia che con il suo calore è simile ai carboni infuocati ed essa abitualmente difende questo pensiero e non permette che lo si arresti con una qualche resistenza ostacolo impedimento perché questa gelosia acquista una grande forza e un'indicibile energia nel difendere costantemente l'anima dall'indebolimento o dal timore quando le si frappongono in pazzi di ogni genere il primo pensiero è la forza del santo desiderio piantata dalla natura nell'essenza dell'anima la gelosia è il pensiero mosso dalla forza irascibile posta da dio nella nostra anima affinché osserviamo i limiti naturali ed esprimiamo la nostra libertà mettendo in opera il naturale desiderio che si trova nell'anima è una virtù senza la quale non si fa il bene e si chiama gelosia perché di tempo in tempo muove eccita infiamma e fortifica l'uomo qualcuno chiama una volta in una predica la gelosia cane custode della legge divina cioè della virtù Santisacco continua spiegando che la gelosia consta della paura di perdere il bene e dell'inclinazione a trattenerlo ecco perché l'affievolirsi della gelosia è un cattivo segno premonitore e proviene o dal raffreddarsi dello spirito o dalla sicurezza di sé e dalla superbia cioè da un rapporto non vivo e personale ma possessivo e carnale con il bene spirituale quasi fosse una cosa che si può mettere sotto chiave e possedere senza sentirla interiormente così l'aspirazione alla colonna e fondamento della verità è realizzata e assicurata dalla gelosia questa forza del nostro spirito bandita e disprezzata dalla coscienza attuale di fare di fare di fare di fare di fare Grazie a tutti